Bugerru visto dall'alto da sopra la montagna bel posticino spiaggia deliziosa acqua veramente con area di sosta per chi può interessare forse più area di sosta che parcheggi per macchine ben servita l'acqua spettacolare comunque niente che dire ben servita sul mercati e che può interessare un bel villaggetto vederlo dall'altro veramente in mezzo al nulla ma spettacolo della natura come dico sempre io merita secondo me un passaggio poi vedete dall'alto c'è i motori elettri